Si apre una stagione molto importante per la nostra regione, in modo particolare in questo momento per la nostra provincia. Oltre 43 milioni di euro di investimenti per le nostre strade. Non era mai successo in precedenza, non si parla soltanto di asfalti, 19 milioni ad essi dedicati, ma 15 milioni ad esempio di euro dedicati alla sicurezza delle nostre gallerie, della loro illuminazione, della messa in sicurezza delle scarpate, di barriere sparti traffico e ben 9 milioni invece di euro per la sicurezza dei nostri ponti e dei nostri viadotti. Interventi che realizzarà ANAS, alcuni di quali già iniziati, come quelli lungo la strada statale Valcesano, ma numerosi altri interventi che termineranno tutti entro ottobre del 2021. Numerosi interventi su ben 10 strade della nostra provincia. Le strade interessate saranno la strada statale Flaminia con investimenti per oltre 20 milioni di euro, Bocca-Trabaria con 7 milioni e 600 mila euro, la strada statale Adriatica con 2 milioni e 600 mila euro, la strada statale Valcesano con 3 milioni e 400 mila euro, l'Urbinate con 2 milioni e 800 mila euro, la Pecchiese con 723 mila euro, la strada della Contessa, la Fogliense per 3 milioni e 300 mila euro, e la Metaorense e la Montelabattese, ciascuna con un milione e mezzo di euro. Quindi interventi importanti che fanno il paglio con un'altra notizia, molto importante per il nostro territorio, ossia la nomina del commissario straordinario per il completamento dell'incompiuta delle incompiute, la nostra Fano Grosseto, sulla quale ancora ci sarà molto da lavorare, perché l'intenzione della Regione è di proporre al Governo nazionale di tornare al progetto originario. Quattro corsie e con la doppia galleria alla Guinza, perché altrimenti tornare al completamento di una superstrada, facendo confluire il traffico sulla strada ordinaria, potrebbe provocare problemi di sviluppo economico per il nostro territorio.